Mr. Helmet e Ikma, siamo da E-Squad, loro fanno dei jeans super resistenti per chi vuole andare a vestito normale e rischiare comunque meno sulla moto e sono due i prodotti nuovi di questa azienda che sono, diciamo, uno dei primi player a produrre jeans ad alta resistenza, materiale da moto questo è il modello Strong, è fatto di poliaramide, che è un materiale militare, da un unico filo viene ritorto e avvolto fino ad ottenere questo jeans che ha tutte le caratteristiche di un jeans ma è fatto di un materiale ad altissima resistenza è un jeans vero e proprio, non sembra neanche un pantalone da moto e il costo è quello di un jeans fashion, circa 350 euro sul mercato per lo Strong di E-Squad ci sono poi questi altri due capi molto strani, molto fashion, sono in realtà anche questi due prodotti molto tecnici questo jeans si chiama Julian e costa 190 euro, è fatto, innanzitutto è spalmato di cera per renderlo, diciamo così, anche un po' più impermeabile ha la possibilità di inserire le protezioni ed è un materiale, anche questo, molto tecnico di Kevlar con un unico filo che viene avvolto fino ad ottenere un pantalone, un vero e proprio pantalone tecnico che però sembra un pantalone e un jeans alla moda e non si nota veramente nulla la possibilità, avevo già detto, di inserire le protezioni e lo trasformano in un capo ad alta protezione e se volete, se dovete andare in ufficio e non dovete necessariamente vestirvi da moto con la tuta che è sempre la soluzione migliore ma volete comunque un look normale potete pensare ad E-Squad con questi due prodotti, Julian e Strong ciao da Mr. Helmet